1-0-0 a dir poco clamoroso quello che vi è stato ieri tra Sampdoria ed Inter e in questo video voglio andare un pochino a dirvi la mia sulla partita perché se il risultato, che comunque l'importanza del risultato stesso hanno messo un timbro ulteriore sul campionato prima però di andare a un'analisi vi do il mio bentornati, i miei benvenuti sul canale a seconda che siate già o meno iscritti e bentornati nella casa del calcio dove le caffette calcistiche è quella verso il calcio stesso vi raccomando di seguire i miei progetti podcast vale a dire volti nuovi e storie di calcio che potete trovare su Google Podcast e Pol Podcast di San Claudio e Spotify e seguitemi anche su TikTok perché lì vi metto delle pillole calcistiche e non solo magari di argomenti che insomma non reputo validi per un video un po' più approfondito o magari per argomenti anche di attualità insomma TikTok è una piattaforma così quindi a volte mi stufo però serve anche per ricaricarmi il cervello il parlare di altri argomenti ma veniamo a noi 0-0 la partita di ieri un Inter che fondamentalmente ha giocato nel primo tempo in modo impreciso sebbene abbia giocato pressoché soltanto in avanti aprendo qualche spazio alla Sampdoria però vi è stata una grande imprecisione con un Lautaro Martinez che dopo alcune partite non è stato proprio al massimo della forma ma è normale non si può chiedere a un giocatore di trascinare la carretta per 40 partite e un Lukaku che onestamente mi è sembrato alquanto imbarazzante imbarazzante, nervoso irrispettoso anche verso Barella perché comunque io capisco il nervosismo è tutto capisco che tu vogli ritrovare la forma ma a un Barella soprattutto tu non puoi dire tipo stai zitto non parlare e gioca soprattutto ripeto Barella che è uno di quelli che ci mette più la voglia in campo è uno di quelli che secondo me ieri sono tra i migliori magari non in fase offensiva ma in fase difensiva ha recuperato certi parloni nel primo tempo ha anticipato se non erro Gabbiadino forse Lammers di petto quella poteva essere una potenziale occasione molto pericolosa per la Sampdoria quindi un Lukaku evanescente in parte lo capisco o meglio capisco anche la cosa perché giocatori come lui con la sua fisicità necessitano di partite su partite per recuperare la forma se poi una volta gioca 10 minuti una volta 20 una volta mezz'ora poi rimani in panchina poi ti gioca altre 20 minuti non la recupererà mai questo è il pro e il contro di avere questi giocatori alti e con un fisico così importante ma comunque ripeto un Inter che comunque non è stata assolutamente male nel primo tempo una Sampdoria che ha fatto il suo a livello difensivo molto quadrata molto spesso giocava 5 più 1 perché soprattutto nel primo tempo che la coppia centrale di centrocampo era formata Winks e Quisans Winks molto spesso retrocedeva diciamo appunto dietro Quisans ma davanti alla difesa quindi era fondamentalmente una difesa di 5 più 1 una difensiva di 5 più 1 ha fatto il suo ha avuto le sue occasioni la Sampdoria però giustamente a meno che non imbrocchi la partita perfetta se ne costruisci due non ne puoi mettere a segno una molte volte ci vuole un po' di più bisogna fare un po' di più a livello offensivo ma la Sampdoria comunque questa è stata chiamata a fare questo tipo di partite nel secondo tempo una Sampdoria che soprattutto una seconda metà si è totalmente arroccata esce Diuri centra in con quindi ulteriori muscoli centrocampo e un Inter che ha sostituito un Gosens veramente improponibile con un Di Marco ma comunque anche nel secondo tempo tanta tanta imprecisione imprecisione poi ha avallata sottolineata anche dalla frenesia perché poi in queste partite sporche quando comunque tu arrivi a un certo punto che non la sblocchi se la sblocchi ne fai cinque ma se non la sblocchi nella mente dei calciatori nascono dei fantasmi ok quindi poi ti diventa anche un po' più difficile essere lucido anche Dzeko ha sbagliato delle cose importanti quando è entrato un Dzeko che non sbaglierebbe neanche 20 tiri su 21 probabilmente ti farebbe 21 su 21 quindi il tutto ha portato l'Inter a essere veramente imprecisa nervosa sfilacciata con la Sampdoria che ripeto ha difeso totalmente quasi per tutto il secondo tempo soprattutto ripeto per la seconda parte e adesso vogliamo vedere un po' di statistiche sembra veramente una partita buggata di football manager perché l'Inter è soltanto contro la Cremonese ha tirato di più però oggi ti porti a casa uno 0-0 fuori casa importante negativamente per Inzaghi e quindi insomma questo è il discorso andiamo a vedere un pochino le statistiche perché veramente sono un po' clamorose allora possesso palla 35 Sampdoria contro 65 Inter 0-54 XG per Sampdoria 1-71 Inter quindi il discorso che l'Inter non abbia fatto neanche un gol vi è stato anche un grandissimo odero è un dato molto importante e quantomeno è stato allarmante in questa partita come tiri come tiri totali 7 Sampdoria 25 Inter quindi più del triplo ha tirato l'Inter però il dato importante è i tiri in porta 2 Sampdoria 5 Inter quindi la Sampdoria ha tirato in porta o meglio ha preso lo specchio della porta per il 33% delle volte circa l'Inter per il 20% più o meno perché 5 su 25 è una forza anche di meno quindi una percentuale veramente bassa tanti tiri fuori anche l'Inter ad esempio 3-5 tiri fuori addirittura i tiri bloccati 7-0 e 2-0 quindi questa cosa questi atti sono contestualizzati in questa partita sono veramente importanti un Inter che ha praticamente quasi effettuato il doppio dei passaggi è anche come percentuale molto più alta quella dell'Inter però c'è il discorso che poi devi essere cinico perché se poi fai il gioco avvolgente tutto quanto il cambio di gioco di Marco che ti rientra più di Gosens un Dunfries che è tecnicamente più offensivo di Armian quindi è stato messo anche dentro lui per creare superietà numerica se non concretizzi tutto il resto è fuffa ora secondo me un qualcosa che ha creato un po' di difficoltà anche all'Inter è stata l'assenza di Bastoni Bastoni un centrale un braccio di sinistra ha giocato Cerbi ieri però hanno caratteristiche diverse al di là del tiro di Cerbi fantastico che poi ha parato Oderon nel finale di partita ma Bastoni è uno che ti rompe le linee è uno che avanzando anche sulla fascia ti spingi in avanti l'esterno a Cerbi questa cosa non la fa fa un lavoro più attento a livello difensivo però non rappresenta quell'uomo in più a centrocampo e in fase offensiva quindi questo che succede un uomo in meno in fase offensiva porta l'esterno a fare alti movimenti alla punta a fare alti movimenti alla mezzala a fare alti movimenti ma non crei quella spinta appunto in avanti questo potrebbe essere stato un problema dell'Inter andando poi a vedere la classifica dopo questo 0-0 l'Inter poteva stare con la vittoria a meno 13 dal Napoli ora invece a meno 15 59 Napoli 44 Inter e non solo non compie quella a lungo diciamo utile per staccarsi dal terzetto Atalanta Roma e Milan perché comunque adesso via l'Inter seconda a 44 poi terze quarta e quinta rispettivamente Atalanta Roma e Milan a 41 quindi questi tre punti ci vuole poco a perderli magari già la prossima una delle tre ti può andare a vincere tu Inter non fai risultato ecco che sei raggiunto al secondo posto dando per scontato che un Napoli cioè questo Napoli non penso sia molto propenso a rallentare quindi ecco un Inter che va viene a mancare nelle partite importanti che non siano partite secche come le gare di Coppa quindi ecco un'occasione spiegata per l'Inter mentre per la Sampdoria un punto che non conta un'accusa nel senso che comunque sia a lunga di uno sulla Cremonese perde due punti a fuori del Verona perché il Verona con la vittoria di oggi molto importante va a 17 la Sampia a 11 si fa pericolosa per lo Spezia e in parte anche per la Serenitana perché comunque Serenitana-Verona era uno scontro quasi tra contendenti per la retrocessione o la non retrocessione era un Verona che si è totalmente rimesso in gioco quindi per la Sampdoria non cambia nulla perché ripeto anzi peggiora perché rimane a meno 6 invece che meno 4 dal Verona però può dare morale può dare morale è bellissimo anche il pubblico Doriano io mi ricordo sotto la curva Palombo piangente con i tifosi Sampdoriani che invitavano i giocatori a togliersi le maglie perché non degni ma questo in questa occasione il pubblico Sampdoriano sta capendo in pieno la situazione e non fa mai mancare l'apporto o meglio il supporto alla squadra perché vede la voglia una voglia spronata anche da Stankovic ma ripeto il pubblico della Sampdoria voto secondo me dice lode complimenti al tifo Doriano salvezza onestamente la vedo molto 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 dura situazione societaria un po' anzi un po' molto preoccupante staremo a vedere però i calciatori devono fare il loro mestiere allenatore pure sul campo non devono mai mettere indietro la gamba e devono sempre portare in alto o meglio in avanti l'orgoglio Doriano quindi fatemi sapere qui sotto voi cosa ne pensate vi mando un abbraccione e ciao al prossimo video ciao ragazzi